Tornano per l'undicesima edizione le giornate FAI d'autunno, evento nazionale di partecipazione attiva e di raccolta pubblica di fondi, sabato 15 e domenica 16 ottobre. Visite a contributo libero in 37 luoghi inaccessibili o poco valorizzati di 12 comuni d'Abruzzo, alla scoperta di un patrimonio sorprendente e inaspettato che è in ogni angolo del Paese. Momento senza dubbio importante di condivisione e di educazione civica. Il presidente del FAI, Abruzzo e Molise, Roberto Di Monte. Sono previste, entriamo proprio nel merito, 37 aperture. 37 bellissime aperture, meravigliose aggiungerei, di varia natura, quindi abbiamo qualcosa che c'è a che fare col paesaggio, quindi con qualcosa che c'è molto a cuore, oppure altro con ciò che sta nell'immaginario collettivo, quindi i castelli. Qualche esempio? Segnare lei le tre, magari già segnalate dal nazionale, quindi il castello di Gagliana Terno, il borgo di Fallo, molto carino, tutto da visitare, l'ospedale veterinario di Teramo, che è un punto di eccellenza, è un nostro vanto abruzzese a livello italiano. Il nostro Andrea, già inquadrato, FAI 45583, che cosa rappresenta questo numero? Nelle nostre attività, oltre a fare la valorizzazione, facciamo anche la conservazione dei beni, quindi digitando questo numero e donando due euro al FAI, si dà la possibilità di restaurare e di conservare i beni che comunque il FAI già gestisce con ottimi risultati. Giornate FAI d'autunno, il più importante evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico della nostra regione, permetterà così di aprire al pubblico quei luoghi per lo più sconosciuti o solitamente non accessibili di Abruzzo e Molise. L'assessore regionale al turismo, Daniele Damario. Altro aspetto appunto da sottolineare e rimarcare è il risvolto turistico di queste giornate. Ma sicuramente sì, oggi è ovvio che il core business del turismo abruzzese è ancora legato alla costa, al turismo balneare, però c'è una grande scoperta delle aree interne, di questi luoghi che prima erano fuori dai circuiti turistici nazionali, legati al nuovo modo di far turismo, che è quello esperienziale, legato ai borghi, legato alla nuova astronomia, legato alla cultura, legato a tanti fattori di cui l'Abruzzo è sicuramente ricco e può sicuramente rivestere un ruolo da protagonista. Grazie a tutti.